Kate Middleton, la principessa del Galles, ha fatto una comparsa altamente simbolica e attesa alla finale maschile di Wimbledon, segnando una delle sue rare uscite pubbliche dopo aver annunciato a marzo la sua battaglia contro un tumore La sua presenza a questo evento sportivo, rispettando una lunga tradizione reale, non solo riafferma il suo impegno istituzionale ma manda anche un messaggio di resilienza personale Nei mesi scorsi, il principe William ha rappresentato solo la coppia in vari eventi ufficiali, mentre Kate si concentrava sul suo trattamento e recupero Il Trooping the Color, una parata celebrativa tenutasi recentemente, è stata la sua prima apparizione dopo l'annuncio della malattia, ricevendo un'accoglienza calorosa da parte dei cittadini preoccupati per la sua salute L'apparizione a Wimbledon è quindi un seguito di questo progressivo ritorno alla normalità Per l'occasione, Kate ha scelto di indossare un abito viola del designer Safia, valorizzato da accessori scelti con cura, slingback di Camilla Elphic, una borsa a mano in tono neutro e gioielli raffinati, tra cui spicca l'anello di fidanzamento che non abbandona mai Il costo dell'abito si aggira intorno ai 1620 euro, dimostrando il suo invariato interesse per la moda di alta gamma Il colore viola dell'abito non è una scelta casuale, tradizionalmente associato alla regalità, il viola in questa occasione simboleggia la dignità e la forza in un periodo di grandi sfide personali per la principessa Inoltre, Kate ha abbellito il suo outfit con una spilla a strisce verde e viola, i colori ufficiali del club organizzatore di Wimbledon, enfatizzando il suo legame con l'evento e il suo ruolo di patrona della federazione inglese dei club di tennis e croche La presenza di Kate e la sua scelta di indossare viola a Wimbledon possono essere interpretate come un segno di ottimismo e una dichiarazione della sua prontezza a riprendere pienamente i suoi doveri reali, nonostante le sfide personali che continua ad affrontare Questo momento segna un punto di svolta importante, poiché dimostra la sua volontà di rimanere una figura pubblica attiva e influente Grazie